Roma è una squadra ben allenata da coach Andrea Pacariè, fa del contropiede primario la sua arma di forza con Pasqualin, D'Argenzio e Di Bonaventura che spingono sempre in contropiede per andare al ferro o per servire compagni. È una squadra che gioca anche del grande uno contro uno sia con che senza palla per mettere in ritmo i tiratori come Murri, Di Bonaventura e come Pasqualin. Sarà una partita sicuramente difficile soprattutto perché in casa è una squadra che fa 77 punti di media partita quindi noi dobbiamo essere duri e da subito mettere il corpo addosso per non per non farci battere facilmente e mandarli al ferro. Siamo pronti a giocarla e daremo tutto.